saluti da agro palati oggi ho preparato questi bellissimi vasi sono sugo all'arrabbiata con salsa di pomodori biologici delle macchie delle coserie di varie qualità abbiamo ricavato la polpa e poi abbiamo messo tutta una serie di ingredienti come peperoncino aglio basilico olio extravergine d'oliva un po di sale piccante ovviamente un bel po di piccante e poi abbiamo preparato il suo come si fa di solito e poi dopo di che sono stati invasati a caldo capovolti almeno per 4 5 ora abbiamo già garantito la pastorizzazione sono sughi pronti che si possono utilizzare tutto l'anno per velocizzare a volte con i piatti avere delle riserve di sughi già pronti è sempre una grande scelta o tra l'altro sono molto deliziosi ma veramente molto piccanti troverete la ricetta di questa preparazione entro qualche giorno sul mio canale di youtube a voi tutti una buona serata da michel expert